Bentornati amici, oggi più che di un singolo shooting vi parlo della storia degli shooting per un cliente in particolare un cliente per cui ho cominciato a scattare tanti anni fa e per cui mi capita ancora di realizzare qualcosa Ora prima di incominciare io vi ricordo di iscrivervi a questo canale e di attivare la campanella così quando pubblicherò un nuovo contenuto sarete i primi a saperlo Lasciate anche un like a questo video nel caso vi avesse arricchito e vi avesse lasciato qualcosa che reputate utile Andiamo a incominciare e parliamo un attimino del cliente Si tratta di una pasticceria che è ormai una bottega storica Quando io cominciai a scattare per questo cliente non lo era però gli anni passano e ha da poco ricevuto la qualifica di bottega storica Ricordo per chi non lo sapesse che è una qualifica che viene rilasciata alle attività che sono in piedi da oltre 50 anni Originariamente il cliente è una pasticceria Per cui si tratta di un punto vendita in cui vengono smerciati i dolci e i pasticcini Questo è diciamo il core business del cliente fino a quando non si decide di aggiungere una parte dedicata alla miscelazione E' qui che entro in gioco io Nel senso che per questa parte vengono richieste delle foto dei prodotti che vanno a essere smerciati che sono in particolare tre bottiglie E' una linea di tre bottiglie che sono un vermut rosso, un vermut dry e un bitter Vengono lanciate sul mercato e per la verità vengono vendute esclusivamente all'interno del punto vendita Quindi è un prodotto assolutamente esclusivo Un prodotto di altissima qualità e che piace molto Per cui ha un ottimo riscontro E si decide quindi di implementarne la comunicazione anche tramite delle immagini realizzate in una certa maniera Per questo motivo all'interno del punto vendita Quindi mantenendo quelli che sono i colori e l'aspetto del punto vendita che è caratteristico e che è l'unico posto al mondo in cui è possibile consumare questi prodotti Queste che vi faccio vedere sono delle immagini realizzate all'interno del punto vendita Come vedete in ogni foto c'è un drink che viene realizzato apposta per fare la foto Quindi in realtà ogni foto è basata su un cocktail in particolare I cocktail vengono realizzati con i prodotti del mio cliente E degli altri prodotti che vanno a essere miscelati insieme Quindi nella foto si vedono tutti gli ingredienti Gli ingredienti sono posizionati sul bancone La composizione è libera Quindi è mia la composizione Io non sono un allestitore Ho cercato in questo caso di fare del mio meglio Secondo me siamo riusciti a tirar fuori qualcosa di carino Ragionando anche col cliente Cercando di capire a quali ingredienti dare la priorità Che cosa far vedere di più Che cosa far vedere di meno Sono delle immagini abbastanza scenografiche Che fanno vedere, catturano proprio quella che è l'essenza del prodotto del cliente Perché il prodotto è una bottiglia Che può essere comprata e che può essere consumata dove vogliamo noi Quindi ce la possiamo portare a casa nostra Però l'esperienza non è completa Se non ci si fa fare un cocktail lì sul posto Perché farsi fare un cocktail lì sul posto Significa innanzitutto avere la certezza che sia miscelato bene Perché se ce lo facciamo da soli a casa Magari non è il nostro lavoro Quindi lo facciamo un po' così Invece se ce lo facciamo fare lì siamo sicuri che sia fatto nel modo migliore Inoltre possiamo approfittare dell'esperienza del bartender Che ci spiega come ha realizzato i prodotti Come ha pensato i cocktail E come li sta facendo su misura per noi Perché a seconda della persona che ha davanti Può anche essere che decida di improvvisare Di cambiare un pochino le dosi O di creare una versione sartoriale del drink Apposta per la persona che ha davanti In base ai gusti di questa persona Perché un po' glieli chiede Un po' se li ricorda E quindi riesce ogni volta a realizzare Un drink fatto apposta A seconda dei gusti del cliente che ha di fronte Queste immagini ovviamente servono Per la comunicazione sui social media Vengono utilizzate anche per la stampa Di un menù cartaceo A questo proposito è sempre nostra La progettazione del menù cartaceo Che gira ormai da diversi anni Che viene poi rilegato in pelle Quindi ci imbarchiamo anche nella progettazione cartacea Progettazione che prevede questo menù Una serie di schede con una comunicazione in store Quindi delle schede in formato A4 Che vengono stampate e posizionate In punti strategici del negozio Per illustrare quelli che sono i prodotti Quindi all'ingresso ci sono tre targhe Con i tre prodotti E all'interno del punto vendita Sono posizionate delle foto stampate Perché alcune di queste foto Vengono stampate dal cliente In formato locandina Quindi c'è tutta una parte dedicata Alla comunicazione in store Molto ben fatta Molto curata Gestita a quattro mani con il cliente Nel senso che è sempre stato tutto Tenuto molto sotto controllo dal cliente Perché lui gestisce molto bene La comunicazione in store col suo cliente Per questo motivo Vuole avere il polso Di quella che è anche la comunicazione stampata E di quella che è la comunicazione sui social In modo tale Che sia allineata A quella che è la sua comunicazione personale Con il cliente vis-à-vis La progettazione del menù È abbastanza semplice È un menù dove sono semplicemente Illustrate le ricette Viene ovviamente consegnato in formato pdf E viene stampato da una fotocopisteria storica Che si trova nei pressi della cattedrale di Sant'Ambrogio a Milano Quindi un prodotto di alta qualità Con una rilegatura in pelle abbastanza importante Con il passare degli anni Vengono richiesti nuovi lavori Da parte di questo cliente Per esempio durante un inverno Viene richiesta la ripresa e il montaggio Di un mini video Che riguarda la realizzazione del panettone Questo ragazzi è un lavoro Di cui ho dei bellissimi ricordi Perché si è trattato di recarsi Nel laboratorio di pasticceria Durante l'orario di chiusura Non durante l'apertura con tutti i clienti Si è trattato di recarsi nel laboratorio E assistere alla preparazione di panettoni Quindi tutta la lavorazione Tutta la preparazione dei panettoni È stata filmata Viene alla fine impacchettato Un video breve Perché la preparazione dei panettoni È lunga È una preparazione artigianale Perché viene fatta con un lievito madre Che ha 40-50 anni Non mi ricordo più Comunque tanti Viene fatta con tutti ingredienti naturali In maniera assolutamente artigianale Però su scala abbastanza elevata Cioè non stiamo parlando di un panettone Stiamo parlando di tanti panettoni Perché comunque è un'attività che li vende Quindi è un procedimento che dura parecchio È un procedimento che dura mezza giornata La preparazione dei panettoni Mezza giornata di riprese Alla fine viene condensata In un mini video che dura pochi minuti Perché comunque il margine di attenzione Del pubblico sui social è basso Quindi il video deve essere assolutamente breve Altrimenti la gente schippa È un video che mostra alcuni Non tutti i passaggi Quindi non sveliamo nessun segreto Del nostro cliente ovviamente Anche se non ha ingredienti segreti particolari Semplicemente ha una ricetta Che segue da molti anni E che è ormai caratteristica Del suo modus operandi Nella realizzazione di questo prodotto tipico Il video che nel frattempo vi faccio vedere Viene pubblicato ovviamente su Facebook Viene pubblicato su YouTube E viene mandato come invito privato Tramite Whatsapp Questo che è un cliente di quelli Che amano molto Whatsapp E che prediligono l'invito personale A una certa tipologia di eventi E prediligono l'invio di materiali Personalmente ad alcuni clienti fidati Piuttosto che fare una comunicazione di massa Anche perché ok Vengono realizzati diversi panettoni Però il metodo artigianale Con cui vengono realizzati Non consente di andare su una produzione Di tipo industriale Quindi non consente di fare Mille panettoni I panettoni che vengono realizzati Sono di meno Non è una grandissima produzione È una produzione di qualità E per rimanere tale Non produce tantissimi pezzi Per cui se siamo sotto Natale E volete un panettone Affrettatevi Vi lascio il link in descrizione Ora per quanto riguarda il video Viene realizzato con luce artificiale Perché all'interno del laboratorio È oscurato Non entra la luce del sole Perché potrebbe interferire Con qualche procedimento O danneggiare gli ingredienti Ovviamente Viene realizzato con la luce presente Nella sala Che è una luce al neon Quindi è una luce brutta Purtroppo Però non è possibile Portarmi luci supplementari Perché il laboratorio Non è grandissimo E non posso ostacolare il lavoro Perché comunque Io sono lì a fare delle riprese Però loro stanno lavorando Non stanno facendo Il panettone per me Ma lo stanno facendo Per venderlo Quindi per non Intralciare il loro lavoro Mi sono accontentato Della luce che c'era Come potete vedere Non è una luce bella Ho anche dovuto alzare Parecchio gli ISO Perché non è una luce Abbastanza forte Da lavorare con ISO bassi Purtroppo Ho dovuto alzare Un pochino gli ISO Ma le riprese Non ne hanno risentito Particolarmente E direi che Il lavoro è abbastanza presentabile Io quasi faccio fatica A vederlo il rumore Datemi un parere anche voi Scrivetemelo in un commento Secondo voi fa schifo E pieno di rumore O si vede discretamente Dai Siate buoni Veniamo a una delle parti Di questi shooting Che mi è piaciuta di più Ovvero la parte industriale Come sapete Se seguite questo canale Io sono un grandissimo appassionato Di fotografia industriale Ora In occasione del lancio Di una delle sue tre bottiglie Mi pare che fosse la seconda Perché sono uscite in tempi diversi Queste tre bottiglie Durante il lancio Della seconda o terza bottiglia Non mi ricordo più Mi sono recato presso L'impianto di agronomia Dove vengono realizzate queste bottiglie Che è nei pressi di Asti Monferrato Quindi zona di vini Zona dove insomma ne sanno Mi sono recato presso questo stabilimento Dove ho assistito alla produzione E all'imbottigliamento Del prodotto del mio cliente In quell'occasione Sono state realizzate Delle foto industriali E questo video Che vi faccio vedere Anche questo ovviamente È stato montato Una ripresa Che è durata Alcune ore È stata condensata In pochi minuti Sempre per far vedere Quella che è la produzione Ma senza annoiare Il pubblico dei social Che come vi ho già detto Pretende delle cose Abbastanza rapide Lo stabilimento Non è stato facile Da riprendere Nel senso che L'agronomo Mi ha seguito passo passo E mi ha spiegato Che cosa potevo E che cosa non potevo riprendere Perché ovviamente lì ci sono dei Lui li ha chiamati Segreti industriali Io non credo che ci fosse Chissà cosa da nascondere Perché sono dei macchinari standard Che probabilmente I suoi competitor Hanno identici Se non più grandi Il punto è Che sono macchinari Altamente customizzabili Quindi nel momento In cui io vado Ad apportare Delle migliorie Sulla mia catena Di produzione Magari è possibile Che io abbia trovato Un metodo Per concatenare Vari procedimenti Che è soltanto mio Che mi permette Di risparmiare tempo Ora in ottica competitiva Ovviamente Io non sono molto propenso A regalare A tutti i miei competitor Questo tipo di miglioria Che mi sono inventato io Suppongo che il ragionamento Sia stato questo Per cui molte cose Non le ho potute Filmare e riprendere Quello che vi faccio vedere È quello che è stato approvato Dall'agronomo in persona Che mi ha detto Questo lo puoi fare Per cui si vede La catena di produzione Con le bottiglie Che vengono assemblate Con il prodotto Che viene imbottigliato Con il tappo Che viene chiuso E poi l'etichetta Che viene applicata Alcune sezioni Di questa catena Come vi dicevo Non ho potuto riprenderle Ma in realtà Si vede tutto Cioè il procedimento Si vede quasi per intero In questo video Ovviamente al seguito Del lancio di questo prodotto C'è stato un evento In store E anche di quello Sono state fatte foto e video Adesso vi mostro qualcosa A campione Ma qui non è che ci sia Chissà che cosa da vedere Questo è Per farvi comunque vedere Che c'è una continuità E che il cliente È stato seguito Nel corso degli anni Il Natale successivo A quello dei panettoni È stato realizzato Uno shooting Per i prodotti di Natale Quindi Panettoni di cioccolato Di Natale E prodotti insomma Dedicati a questa festa comandata Sono stati fotografati Per il catalogo online E per i social C'è stata fatta una comunicazione A tappeto Sul fatto che venivano venduti Questi prodotti Durante il periodo di Natale Le foto come vedete Come vi rendete conto Avendo visto quelle di prima Dei cocktail Vengono sempre realizzate Presso il punto vendita Due parole sullo shooting In punto vendita Tanto quanto per il laboratorio Anche nel punto vendita Non è stato possibile Portare grandi luci Le foto dei panettoni Sono state realizzate Durante l'orario d'apertura Quindi con i clienti in negozio Ovviamente era un periodo In cui si poteva entrare In più di due persone C'erano i clienti dietro di me E io realizzavo le foto Su un pezzo di bancone Che mi era stato dedicato Per realizzare lo shooting In quel periodo Come potete vedere Le foto sono scattate Chiaramente con un flash Perché l'illuminazione ambientale Non era né sufficiente Né abbastanza bella Da realizzare delle foto carine In un ambito come questo Quindi sia per quanto riguarda I cocktail Sia per quanto riguarda I panettoni dolci di Natale Ho utilizzato un flash a slitta Per non disturbare Ho approfittato del fatto Che i soffitti Non sono altissimi Sono soffitti di 4 metri Se ricordo bene Non sono altissimi Quindi ho potuto usare Il mio flash a slitta Appuntato sul soffitto Il soffitto che per fortuna È bianco Quindi mi ha diffuso bene La mia luce Quando capita di scattare Con un soffitto nero Siamo nei guai A me è capitato Alcune volte Di arrivare presso la location Di guardare in alto E di dire Porca miseria Il soffitto nero Chi l'ha fatto? Chi è che non me l'ha detto? Da quella volta in poi Chiedo sempre al cliente Di farmi una foto del locale E di farmela vedere Prima di andarci Se non posso fare il sopralluogo prima Perché così non mi trovo sorprese Perché se c'è il soffitto nero Io rimedio in qualche maniera Però se lo so prima Mi porto un ombrello Mi porto qualcosa Per diffondere la luce Se arrivo lì E casco dal pero Perché non so Di che colore è il soffitto Può essere un problema In questo caso Per fortuna Il cliente è molto vicino A casa mia Per cui io Lo frequento abitualmente Sapevo come erano i soffitti Non c'è stato questo problema Mi sono portato tranquillamente Il mio flash a slitta E ho fatto tutte le foto Nella massima tranquillità Ho utilizzato Per fare queste foto La Canon 5D Mark IV Con il 24-105 Se ricordo bene Che è una lente Che mi permette Di sfocare abbastanza Lo sfondo Perché è una lente Che comunque diventa Molto lunga 105 mm È una lente Che è piuttosto lunga Già Siamo rimasti ovviamente A f4 Che è l'apertura massima Che è più che sufficiente Per tenere a fuoco Tutti i soggetti Abbastanza anche Per sfocare un pochettino Lo sfondo Che era il bancone Il retro del bancone Con tutte le bottiglie Stiamo parlando ovviamente Di foto semplici Qui si tratta semplicemente Di prendere due Tre prodotti Metterli sul bancone E scattare I prodotti erano comunque Tanti Perché le tipologie Di dolci Che vengono realizzati Apposta per questo tipo Di festività Erano diverse È uno shooting Che avrà richiesto Così come per le bottiglie Per i cocktail Anche questo avrà richiesto Una mezz'oretta Per essere realizzato È uno shooting Che è abbastanza rapido La post-produzione Sostanzialmente Non c'è stata Perché erano giuste Già come sono state scattate Non c'erano particolari Richieste di post-produzione Perché erano giuste così Non ci sono elementi di disturbo Non ci sono colori da correggere Fondamentalmente Sono state pubblicate Così come sono uscite Dalla camera Col profilo colore corretto Andatevi a vedere il video Sui profili colore E sugli spazi colore Se non sapete di cosa sto parlando Ve lo linko in descrizione Ora parliamo un attimo Di un tipo di fotografia Un po' diverso Perché non ci siamo fermati qui Infatti per questo cliente Abbiamo realizzato anche Delle foto in studio Per quanto riguarda Le sue bottiglie Quelle che vi faccio vedere adesso Sono le fotografie in studio Delle tre bottiglie Della linea Carina Queste sono tre foto A cui sono ovviamente Molto affezionato Perché sono i miei Primi tentativi Con l'esposizione multipla Vi spiego che cosa è successo Il cliente mi ha affidato Il compito di fotografare Le sue bottiglie Con la sua etichetta Etichette tutte molto belle In stile futurista Che non ho fatto io Purtroppo perché sono molto belle Mi sarebbe piaciuto fargliele io Ma si è affidato A uno studio grafico Che è vicino all'agronomo Quindi ha preso Diciamo il pacchetto completo Agronomo più studio grafico Si è fatto fare tutto Da una società Che sta vicino Ad Asti Monferrato Ora nel momento In cui mi ha richiesto Le foto in studio Delle sue bottiglie Con la sua etichetta Che si vedessero tutte bene Belle precise Perfette Io ho ovviamente Accettato l'incarico Una volta arrivato a casa Con queste bottiglie Mi sono detto Come cavolo faccio io A fotografare questa roba Non ho abbastanza luci Per illuminarle bene Allora quello che ho fatto È che mi sono ingegnato E tramite A dire la verità Un video su YouTube Un video del canale Fstoppers Che vi consiglio Perché è pieno di materiale Interessantissimo Su quel canale È in inglese Quindi dovrete fare Un pochettino di fatica in più Io l'inglese Cioè io penso in inglese Se serve Quindi l'ho guardato Serenamente Senza neanche farci caso Che era in inglese In questo video Veniva spiegato esattamente Come si può fotografare Una bottiglia Con una sola luce Il mio problema Era proprio questo Che io all'epoca Non avevo le luci Che ho adesso Non ne avevo neanche una Avevo solo il mio flash a slitta Perché facevo prevalentemente Eventi all'epoca Quindi per fare eventi Ovviamente non contemplavo L'idea di portarmi dietro Centinaia di luci da studio Avevo però un trigger Per poter usare Il flash off camera Quindi mi sono detto Che cosa posso fare Io posso mettere la camera Su un cavalletto La bottiglia ovviamente Sta lì Sul backdrop Avevo un paio di cartoncini neri E un paio di cartoncini bianchi Quello che ho fatto è stato Mettere la bottiglia Sul cartoncino nero Come avete visto Le foto sono tutte Sul sfondo nero La bottiglia viene messa Sul sfondo nero La macchina viene messa Sul cavalletto In verticale Per riempire bene il frame Perché la bottiglia È a orientamento verticale Quindi se io Prendete questo frame Se io fotografo Una bottiglia In questo frame È così Sto buttando via Tutto questo spazio È stupido Scattare così Sto buttando via Un sacco di spazio Non sto riempiendo bene il frame Sto buttando via Dei megapixel in pratica Se io invece Faccio il contrario La bottiglia Immaginatevi il frame ruotato La bottiglia occupa Tutto lo spazio E quindi È più efficiente Il mio lavoro Ho una foto migliore Più bella Più dettagliata Riempio meglio il frame Non devo croppare Insomma ho lavorato meglio Per cui è facilissimo Orientamento verticale Sul cavalletto Basta tiltare La testa sfera Del nostro cavalletto Ora le impostazioni Della camera Per fare una cosa Di questo tipo Ovviamente serve Un comando remoto Io ho usato il Canon RC6 Ma un qualunque comando remoto Va bene L'importante è Non toccare più la camera Una volta che si comincia A scattare Per cui Le impostazioni della camera Sono regolate In base a quella Che è la scena Ovviamente Io per tenere a fuoco La bottiglia per intero Credo di aver impostato F11 Una cosa del genere E come tempi di scatto Avrò impostato probabilmente Un sessantesimo Tanto sono sul cavalletto Quindi abbastanza ininfluente Ho oscurato la stanza Quindi l'unica luce Sarà data dal mio flash Quindi i tempi in realtà Non contano più niente Gli ISO ovviamente Li ho tenuti bassi Sono stato ISO 100 Ora quello che succede È che io Telecomando in mano E flash off camera Con il trigger Sull'altra mano Faccio questo Faccio partire Il timer della mia camera Timer di 2 secondi Quindi parte il timer Posiziono il flash Primo scatto Di nuovo Parte il timer Posiziono il flash In un altro modo Secondo scatto Vado avanti così Fino a quando non ho Con una sola luce Illuminato il mio prodotto Da tutti i lati Non solo Ma vado anche a Retroilluminare il mio prodotto Nel senso che Facciamo finta di avere La camera di fronte Io ho il mio prodotto Posizionato qui Vado con il mio flash Dietro il prodotto Nascondo il flash Dietro la bottiglia E sparo dentro La bottiglia attraverso Questo la illumina La rende in qualche modo Trasparente La rende più gradevole In fotografia specie Su fondo nero Perché tenete conto Che se non l'avessi fatto La bottiglia Sarebbe sembrata Quasi nera È una bottiglia scura Comunque Le bottiglie per il vino O per le birre O per i vermouth Sono quasi sempre Colorate Sono scure Perché sono oscuranti Nel senso che Servono anche a proteggere Il contenuto Dalla luce del sole Dalla luce in generale Perché la luce Comunque altera Quella che è la bevanda All'interno Quindi le bottiglie Erano molto scure Tranne quella del bitter Ma quelle dei due Vermouth Erano bottiglie scure Per cui illuminandole Attraverso Si riesce a dargli Un pochino più Di tridimensionalità E a far anche percepire Quello che è il colore Del liquido In qualche modo Ovviamente mi sono studiato Molto attentamente Quelle che erano le posizioni Perché bisogna fare Degli scatti di prova Quando non lo si sa Io adesso una foto del genere La faccio in dieci minuti All'epoca ci ho messo Più di tre ore Perché non sapevo Come farla Quindi l'ho dovuto capire L'ho dovuto capire Facendo un sacco di prove E l'ho dovuto capire Lavoravo sul parquet Allora Perché allora abitavo In una casa Dove c'era il parquet Lavorare col parquet È un disastro Io sono troppo felice Adesso di avere Il pavimento di marmo Perché quando voi Lavorate sul parquet Voi avete posizionato Le cose Ma se fate un passo L'asse del parquet Si muove Vi sposta il cavalletto È un disastro È veramente un disastro Lavorare sul parquet Se potete scegliere Optate per un pavimento di marmo Buttate via tutti i parquet Che avete in casa Ora Detto questo Ovviamente tenetevi pure il parquet Detto questo Ho dovuto quindi capire Che tipologia di scatti fare Diciamo che l'inquadratura È fissa Quindi quello non è un problema Il problema è il posizionamento Del flash In particolare Io dovevo Posizionare il flash Sopra la mia bottiglia Perché volevo Illuminare il tappo Quindi il tappo Doveva avere un po' Di rim light sopra Poi dovevo Illuminare l'etichetta Quindi fotografare con il flash Da davanti alla bottiglia Per illuminare bene L'etichetta frontalmente Poi ho retroilluminato la bottiglia Quindi ho messo il flash Dietro la bottiglia La cosa veramente difficile È stata far venire fuori Le due lamelle di luce Sui bordi della bottiglia Quella sorta di rim light Intorno alla bottiglia Quello è stato difficile da fare Perché non sapevo come farlo Alla fine ho risolto in questo modo Ho preso un cartoncino bianco Che avevo da parte L'ho posizionato dietro alla bottiglia Quindi se io ho la mia bottiglia qui Ho preso il cartoncino L'ho posizionato dietro Alla bottiglia in questo modo Non andando dietro la bottiglia Ma rimanendo fuori Così la mia inquadratura Prendeva la bottiglia su nero E a lato c'era il cartoncino Ora col cartoncino In questa posizione Io ho sparato il flash Sul cartoncino Il rimbalzo Mi ha dato quel rim light Sulla bottiglia L'ho dovuto fare Prima da una parte E poi dall'altra Sempre per lo stesso discorso Perché io avevo Una cavolo di luce sola Oggi se dovessi fare La stessa foto Ovviamente non farei così Userei lo stesso L'esposizione multipla Perché mi permette di creare Dei giochi Che con tante luci Non è più possibile fare Perché più luci si sommano Però in questo particolare caso Se io dovessi fare la stessa cosa Userei due street box Metterei due street box Ai lati della mia bottiglia Così la rim light è fatta E ti fanno anche Un pochino di retroilluminazione Se li posizioni un pochettino Dietro a 45 gradi Una luce bella Con un bel ombrello davanti E il gioco è già fatto All'epoca non avevo Tutte queste belle cose I giocattoli sono Il babbo natale è arrivato dopo E quindi con un flash solo Ho dovuto portarmi a casa Questo risultato Alla fine il risultato È che ho fatto circa 11 foto per ogni bottiglia Era una roba abnorme Oggi ne farei di meno Perché comunque Ho capito meglio Come gestirla All'epoca feci qualcosa Come 11 foto a bottiglia Che poi vennero sommate In post produzione Con scolora su photoshop Quindi mantenendo solo le luci E togliendo le ombre Il risultato alla fine Mi consente di portare Al mio cliente Una foto abbastanza precisa Abbastanza perfetta Dritta E nonostante fosse Il mio primo tentativo Sono abbastanza soddisfatto Di come è venuta Il mio cliente Le usa tutt'oggi Queste foto Queste foto sono state Scattate diversi anni fa Mi pare fosse il 2015 Quindi vengono utilizzate Ancora oggi E non me ne ha mai più Chieste di nuove Perché è ancora contento Di queste Quindi un lavoro Di cui tutto sommato Sono contento anch'io Il lavoro del mio cliente Ovviamente non si basa Solo ed esclusivamente Sulla miscelazione Quindi abbiamo detto Di avergli realizzato Le foto promozionali Per la sua linea di prodotti Le foto still life Per la sua linea di prodotti Il menu cartaceo Che viene utilizzato All'interno del locale Le schede prodotto Che vengono sempre utilizzate All'interno del locale Gli inviti su whatsapp Per gli eventi Le schede dei prodotti Da inviare per whatsapp Quindi in formato quadrato I video promozionali Della produzione Del panettone Il video promozionale Dell'imbottigliamento E della produzione Di uno dei suoi prodotti Ma non dobbiamo dimenticarci Che si tratta comunque Di una pasticceria E quindi un paio di foto Dei suoi dolci Io adesso ve le faccio vedere Queste sono due torte particolari Una di queste Ha addirittura vinto un premio Mi pare che sia arrivata Adesso dirò un'imprecisione Si è classificata Tra i primi cinque Alla gara mondiale Di pasticceria È una torta Ai quattro cioccolati E albicocca Io ragazzi L'ho mangiata Dopo averla fotografata E vi assicuro Che mangiare una torta Così mi veniva da piangere Tant'era buona Era una roba Veramente incredibile Per me doveva arrivare prima Menzione d'onore Per questa foto Che vi faccio vedere Questa foto Che è stata realizzata Sempre nell'ambito Delle foto ai cocktail Quindi il periodo Era lo stesso Eravamo sempre lì A fare lo stesso tipo di shooting O lo stesso tipo di attrezzatura Questa foto viene realizzata Apposta Perché il nostro cliente Deve partecipare A un contest In cui presenta Un cocktail Realizzato con i suoi ingredienti Ovviamente anche in questo caso Si posiziona tra i primi tre Sono competizioni Che non sono facili Non è per niente facile Nemmeno arrivare in finale Il nostro cliente Si posiziona quasi sempre Tra i primi due o tre In questo caso In questo caso la cosa che vi racconto È che questa foto È stata curata Ancora di più Nel senso che Siccome doveva essere La presentazione del drink A questo contest È stato curato Ogni minimo dettaglio Nel senso che Facciamo vedere I prodotti Facciamo vedere Gli ingredienti Facciamo vedere La presentazione finale Del drink È tutto curato Al millimetro Anche perché Questa era una competizione Che prevedeva L'invio di una foto E la volevano Con dei criteri ben precisi Quindi questa è una foto Fatta su doppia commissione Per il nostro cliente E per la commissione Del contest È stata una foto Abbastanza difficile Da realizzare Ne sono state realizzate Tante, diverse Al termine È stata scelta questa Che vi ho fatto vedere È una foto Secondo me Molto rappresentativa Anche dello stile Del mio cliente Perché l'importante La cosa su cui lui punta molto È che nonostante Ci si debba adeguare Ai canoni del contest Ai canoni del mercato Ai canoni dei social Ai canoni di qualsiasi cosa Lui mantiene Inalterato il suo spirito E quindi Si pone sempre Come se stesso E questa cosa Funziona tantissimo Perché i clienti Si ricordano di lui Lo riconoscono Lo riconoscono immediatamente Anche tramite le immagini Perché comunque Abbiamo impostato Il progetto Della sua comunicazione Con uno stile visivo Che è abbastanza riconoscibile Perché è sempre realizzato Al intero del punto vendita Quindi l'impatto visivo È immediato Un cliente che conosce Il punto vendita E vede una foto Lo riconosce immediatamente Che lui capisce Qual è la sua comunicazione Anche all'interno Di questa foto Si percepisce immediatamente Che è stata realizzata All'interno del punto vendita E chi vede Quel bancone Chi vede quello sfondo Capisce immediatamente E ritrova immediatamente L'atmosfera del punto vendita E gli sembra In qualche maniera Di avere di fronte Il cliente Che comunque Ha una bella parlantina Intrattiene i clienti E tiene banco Perché lui fa parte Dell'esperienza Quando si entra a bere qualcosa Lì dentro Perché ti racconta Che cosa ti sta servendo Questa cosa secondo me Traspare abbastanza evidentemente Da queste immagini E anche dai video E da tutto quello Che è stato realizzato Per questo cliente Che comunque Come vi dicevo Ha tenuto il polso Della cosa Nel senso che Mi ha lasciato Abbastanza libertà espressiva Però Ha sempre avuto L'ultima parola Su quella che è La produzione Perché comunque Ci tiene Alla sua produzione Vuole che sia fatta In un certo modo E vuole che lo rappresenti Quindi ovviamente L'ha tenuta Perfettamente sotto controllo Nel corso degli anni Questo è un percorso Che io vi mostro Con grande piacere Perché vi fa proprio vedere Come si possa seguire Un cliente per diversi anni Realizzandogli sempre cose diverse Continuando ad andare incontro Alle sue esigenze Migliorando durante Durante il percorso Perché comunque Una volta Si sbaglia qualcosa La seconda volta Non la si sbaglia più La prima volta Ci manca qualche pezzo La seconda volta L'abbiamo comprato La prima volta Non abbiamo la tecnica Per fare una cosa La seconda volta L'abbiamo invece acquisita La prima volta Non sappiamo Come usare Quello che abbiamo La seconda volta Con ancora meno Di quello che avevamo La prima volta Portiamo a casa il risultato Questo è importante Fa sempre parte Di un procedimento Di crescita Per cui adesso Quando il cliente Mi chiede una cosa Io so già Che cosa mi devo portare Quindi vado con meno roba Non mi devo più portare 20.000 cose Perché dico Mi ha chiesto quella roba lì Io gli ho detto Ti serve solo quella? Sì sì solo quella Io so già Che cosa portarmi Mi porto meno roba Perché dico Vado con due robette Perché tanto Io ho portato Lo zaino L'ultima volta Ma ho usato Solo quelle due cose lì E quindi la prossima volta Mi porto solo Quelle due cose lì Non sto neanche più A portarmi tutto il resto Siamo sempre ovviamente Nell'ambito di dire Lavoro bene Con quello che ho Ricordatevi che spesse volte Non è necessario Continuare a comprare roba Basta far fruttare Quella che si ha già Molte volte è più conveniente Far fruttare la roba Che si ha già Amici con questo Io credo di avervi detto tutto Come sempre vi ringrazio Per aver seguito questo video Lasciatemi un like O un commento Se c'è qualche aspetto Che reputate Che io non abbia approfondito A sufficienza E di cui vorreste Veder parlare In un video prossimo Vi ricordo anche Di iscrivervi Perché altrimenti Se mi chiedete un video E non vi iscrivete Poi non sapete Quando esce E poi date la colpa a me Noi non vogliamo Che questo succeda Vero? Detto questo Io come sempre Vi garantisco Che a nessun fotografo È stato fatto del male Durante le riprese Di questo video E vi do appuntamento Alla prossima Alla prossima